A stalla vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot! Rieccoci qua ragazzi con il nostro caro orgoglioso Vegeta, sempre con i suoi mitici abiti casual. E oggi andremo a continuare la scorsa missione storia dal punto in cui ci eravamo fermati nello scorso episodio. Questo perché la missione storia è abbastanza lunga e quindi ho deciso di dividere questa missione in due episodi. Appunto la prima parte di questa missione dedicata interamente a Vegeta si trova nello scorso episodio, mentre oggi la andremo appunto a continuare e a finire e ragazzi appunto chissà che cosa succederà. Io non lo so proprio, ci siamo fermati in questo preciso punto con Vegeta alla capsule Corp e quindi non ho idea di che cavolo succederà. Ma prima di andare a continuare questa missione storia, vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso episodio in cui ragazzi appunto abbiamo iniziato questa missione storia, come vi ho già detto, ed è successa davvero tantissima roba. Inizialmente con Vegeta siamo andati a prendere tre materiali appunto che servivano per il Dr. Briefs per costruire, per finire appunto la camera gravitazionale. Al terzo oggetto, al terzo materiale che abbiamo preso abbiamo incontrato dei soldati di Freezer che hanno disturbato Vegeta, quindi siamo andati ad eliminare appunto questi intrusi, questi fastidiosissimi soldati di Freezer, perché appunto Vegeta si era davvero incazzato. E poi ragazzi siamo tornati alla capsule Corp, abbiamo dato tutti e tre i materiali al Dr. Briefs, il Dr. Briefs si è messo subito al lavoro, ha costruito la Gravity Room, la camera gravitazionale bellissima, e subito Vegeta con gli abiti casual è andato all'interno della camera subito ad allenarsi a Gravità 300. Ragazzi, assurdo, perché voleva fare molto più di Goku fin da subito per diventare un Super Saiyan e per superare la potenza di Goku. Quindi dopo vari tentativi, diciamo fallimentari perché appunto non riusciva a resistere a quella gravità, Bulma per aiutare Vegeta nei suoi allenamenti ha inserito una simulazione all'interno della camera gravitazionale e ci ha messo come primo nemico Vegeta appunto, scouter della saga dei Saiyan praticamente. Quindi ragazzi, una roba davvero mitica, abbiamo fatto questa battaglia tra le montagne di Gizzard, se non ricordo male, e quindi ragazzi appunto Vegeta contro Vegeta, il nostro Vegeta con questi abiti qua contro Vegeta della saga dei Saiyan. Lo abbiamo distrutto davvero senza problemi e il nostro Vegeta è salito anche di un livello, quindi abbiamo fatto progressi. Dopodiché ragazzi abbiamo anche visto che Vegeta ha chiamato per la prima volta Bulma con il suo nome, quindi non più donna come la chiama di solito, ma bensì Bulma, quindi anche lì c'è stato un progresso tra Vegeta e Bulma, quindi una roba davvero mitica, anche perché ragazzi Bulma lo ha aiutato, quindi come minimo doveva chiamarla con il suo nome. Quindi appunto dopo varie litigate nello scorso episodio diciamo che si sono messi in pace, quindi una cosa davvero bellissima. E poi ragazzi Vegeta è venuto praticamente qui nell'atrio della Capsule Corp dicendo ti supererò Kakarot, e poi ragazzi dicendo anche ti farò vedere che il numero uno sono io. E quindi appunto qua ci siamo fermati, e quindi se non avete visto lo scorso episodio mi raccomando ad andarlo a guardare. Detto questo possiamo procedere con la missione, quindi avanti. Ok ragazzi vediamo che altro succede, sono davvero curioso. Già nello scorso episodio abbiamo visto davvero tantissima roba, immaginate oggi che altro succederà, davvero tanta roba anche oggi sicuramente. Allora attenzione, qui ragazzi ci esce questa schermata, Vegeta continua a mettere tutto se stesso nell'allenamento, e ci mancherebbe, sappiamo com'è fatto Vegeta, sperando di poter superare i propri limiti e ottenere ancora più forza. Questo sempre perché vuole superare la potenza di Goku e diventare anche lui un Super Saiyan. Quindi ragazzi mamma mia Vegeta, sempre le palle deve rompere, ma comunque sappiamo che lui è caratterizzato così, lo sappiamo. Avanti. Goku e gli altri invece, attenzione ragazzi perché vediamo che cosa stanno facendo Goku e gli altri. Oh, casa di Goku. Goku dice, Kiki siamo tornati. Oh, benissimo. Quindi ragazzi nonostante sono iniziati i tre anni di allenamento per Goku, Gohan e Junior, comunque si ritirano a casa di Kiki, a casa di Goku, per mangiare insomma, per fare qualcosa sicuramente. Avanti. Gohan dice, ciao mamma. Vediamo un po' ragazzi che cosa succede. Ah, benissimo, perfetto, sono tutti e tre qua raga. Tra l'altro vedo già Kiki di spalle e sta cosa mi preoccupa, non so che cosa potrebbe accadere. Sapete che Kiki di solito quando sta di spalle non è un buon segno, potrebbe star veramente incazzata? Probabile. Vediamo, Goku si gratta la testa e dice, uff, oggi è stata davvero dura, quindi si stanno comunque allenando. Goku, hai un secondo? Dice Kiki, tra l'altro ancora di spalle sta cosa fa spaventare. Certo Kiki, ma possiamo parlare dopo? Sto morendo di fame, come? No Goku, non fare così, non fare che rimandi la discussione con Kiki perché sennò si incazza ti fa fuori insomma. Perché ragazzi sappiamo che Kiki è davvero una furia e nessuno la vuole sentir gridare, neanche Goku, neanche Gohan ovviamente. Quindi Goku fa meglio a non sottovalutarla e a non, diciamo, ritardare questa conversazione che devono fare, secondo me. Oh cavolo, si sta girando raga! Attenzione, Kiki dice, lascia perdere la fame, sono davvero furiosa con te. Oddio ragazzi, sapevo che era incazzata perché già da come stava girata di spalle rispetto a Goku, Gohan e Junior già c'era qualcosa che non andava, io ve l'ho detto. Ecco, quindi Goku lascia perdere la fame, fatala passare un attimino perché qua Kiki sta davvero furiosa, eh. Infatti dice, sono davvero furiosa con te, che altro sarà successo ragazzi? Io non lo so, vediamo. Cosa? Perché ogni tanto non ti comporti da persona normale e mi accompagni in auto a fare la spesa? Ragazzi, Kiki ha anche ragione in questo caso perché Goku, diciamo, non è il marito ideale, lo sappiamo. Ha dei comportamenti strani perché è proprio lui strano, in senso buono, però Kiki esige appunto dei comportamenti normali da suo marito. Cioè tipo, ad esempio, come questa cosa abbastanza normale di accompagnarla in auto a fare la spesa. Ci può stare, solo che Goku non so se lo farà mai ragazzi, eh. Non lo so, comunque vedo già che Goku ha paura con le mani alzate, oddio. Ma Kiki, non abbiamo un'auto, giusto? Non hanno l'auto? E anche se ce l'avessimo, io non ho la patente, giusto ragazzi? Oh mio Dio ragazzi, questo è il momento! Questo è il fottuto momento in cui Kiki manda Goku e Junior a prendere la patente, come nella saga filler, appunto, di Dragon Ball Z, dell'anime. È fighissimo ragazzi! Vuoi vedere che succede? Che devono andare a prendere la patente? Io non lo so ragazzi, non so nulla a riguardo, quindi scopriamo il tutto. Magari raga, magari. Assurdo. Avanti. Allora prendila, sei l'unico da queste parti a non avere una cosa così fondamentale. E sicuramente ragazzi, ve l'ho detto poco fa che Goku è strano, poi che se ne fa dell'auto Goku? Cioè non se ne frega nulla, può volare, che se ne dovrebbe fare? Però appunto Kiki lo sta sgridando di brutto e dice, la devi andare a prendere appunto la patente, quindi assurdo raga. Avanti. Neanche Junior ce l'ha, ma Goku che paragoni fai? Che paragoni fai? A parte che lui è appunto un alieno, è un nameciano. Poi appunto non ha mai guidato auto, che se ne dovrebbe fare raga? Cioè non ha senso questa cosa che ha detto Goku. Cioè già per Goku non avrebbe senso, ma Junior? Cioè sta cosa è anche divertente, strana ma divertente. Junior che cosa se ne dovrebbe fare di sta patente, di quest'auto ecco? Cosa dovrei farmene? Mamma mia ragazzi, anche incazzato Junior giustamente, ma io lo capisco, lo capisco. Allora andrete entrambi a scuola guida, ragazzi lo dicevo io, lo dicevo. Oh mio Dio, quindi andremo seriamente a prenderla qui nel gioco, chissà come sarà ragazzi, oddio. Prendetela come un allenamento, per diventare persone normali. Oddio ragazzi, che altra roba, allenamento per diventare persone normali. Questa cosa non me la sarei mai aspettata da Kiki, sinceramente. Oh mio Dio, andiamo avanti. Siete entrambi ossessionati dagli allenamenti, no? Beh, questo è vero ragazzi, non ci piove. Allora non potete rifiutare, quindi si devono allenare per diventare persone normali. Ci sta ragazzi, ci sta. Cosa? Un momento, io che centro? Oddio ragazzi, è stato messo in mezzo anche Junior, poverino raga, poverino. Che cavolo c'entra Junior, che cavolo c'entra? Metti in mezzo Goku, Kiki, che c'entra Junior, poverino. Si trova sempre in mezzo raga, così. Ok, che succede raga? Quindi vanno a prendere la patente seriamente adesso, in questo preciso istante, vediamo. No raga, sono troppo curioso, sinceramente oggi non me l'aspettavo che il tutto sarebbe stato questo, questo che abbiamo appena visto, quindi sono davvero, sono davvero contento, ecco. Oh mio Dio ragazzi, ci siamo, ci siamo, oh mio Dio, siamo praticamente in una città e ragazzi abbiamo appunto Goku e Junior e vedo anche, credo, due altre persone. E c'è anche l'auto davanti, l'auto gialla, con il numero uno ragazzi, oh mio Dio, qui la guideremo davvero l'auto, sarà sorprendente sicuramente. Qui ragazzi, il narratore dice, il giorno seguente, dopo la sfuriata di Kiki, Goku e Junior si recano malvolentieri in città per iscriversi a scuola guida. Oh mio Dio ragazzi, proprio come nell'anime, Kiki ha costretto Goku e Junior ad andare a prendere la patente, ad iscriversi comunque. Oh mio Dio ragazzi, ma che roba fantastica, non mi aspettavo di vedere, diciamo, questa piccola saga filler in questo gioco, non me l'aspettavo sinceramente. Pensavo che sto gioco avrebbe evitato tutte le saghe filler, queste, diciamo, perdite di tempo, ma che sono anche divertenti. Quindi no, sono davvero contento. Ok ragazzi, vediamo che cosa succede. Ok, perfetto, abbiamo l'anziano, me lo ricordo ragazzi, me lo ricordo come se fosse ieri. Abbiamo l'anziano che ci dovrebbe dare poi la patente. E abbiamo anche la signorina. Allora, la signorina si chiama Cynthia. Allora, iniziamo? Ok ragazzi, Junior dice, se proprio è necessario, allora, d'accordo. Ma si vede che non lo vogliono fare, mamma mia ragazzi, a forza, a forza lo devono fare, assurdo. Ascolta Goku, che sia in battaglia o sulla strada, non mi farò mai sconfiggere da te. Oddio ragazzi, questo è lo spirito giusto, neanche nelle piccole competizioni bisogna lasciarsi andare, bisogna impegnarsi. Infatti, Junior, vedete cosa ha detto? Che appunto, sia in una battaglia e sia sulla strada, lui non si farà mai sconfiggere. Quindi questo è lo spirito giusto. Avanti. Prendiamola come un diverso tipo di allenamento. Forza, Junior! Ok. Eh, ma non c'è bisogno di vederla come una gara. Ok, giusto, dice Cynthia. L'istruttore di guida dice, tutto bene? Vediamo. Ok, raga, vediamo che cosa succede, magari dobbiamo già utilizzare noi l'auto. Oh, ecco, me lo aspettavo ragazzi. Allora, prove a tempo con Overcar, quindi si chiama Overcar quest'auto. Nelle prove a tempo con Overcar dovrai raggiungere il traguardo entro lo scadere del tempo, evitando gli ostacoli e attraversando i checkpoint. Bellissimo ragazzi, adoro questo tipo di, appunto, modalità, ecco. Le frecce indicano la posizione del checkpoint successivo e ti conducono al traguardo. Perfetto. Lungo il percorso troverai anelli propulsori che aumenteranno temporaneamente la tua velocità. Perfetto. Passando attraverso gli anelli, mentre acceleri, la tua velocità massima aumenterà. Non dimenticarti di cercare le scorciatoie. Ti aiuteranno a ottenere risultati migliori. Perfetto ragazzi, fino a qui è tutto chiaro. Andiamo avanti qui. Ok, comandi dell'Overcar, comandi di base. Allora, L2 frena retromarcia. Tasto giù scendi. Tasto sinistro e destro cambia musica, non ci interessa la musica. Cambia direzione, appunto, con levetta analogica sinistra. R2 avanza. Triangolo cambia visuale. Quadrato radar per minerali. Mentre, appunto, levetta analogica destra sposta visuale. Quindi, ragazzi, dobbiamo tenere a mente R2 per avanzare e L2 invece per frenare. Quindi, per scendere, non credo ci interessino. Dobbiamo utilizzare la macchina. Quindi, vai. Eccoci qua ragazzi. 3, 2, 1. Ed eccoci qua, già su strada. Ci siamo raga. Perfetto, dai, guidiamo quest'auto, questa Overcar. Qui abbiamo, appunto, i checkpoint. Abbiamo anche il tempo limite, ragazzi, vedo. Sta già scorrendo il tempo lì sopra. Quindi, facciamo in fretta. Evitiamo le altre auto, raga. Oh mio Dio. Oh, qui ci sono gli anelli che ci danno la propulsione. Oh, perfetto. Vai Goku. Dobbiamo far vedere a Junior che siamo più bravi noi, ovviamente. Dai, raga. Mamma mia, che figata, raga. Sto adorando sto gioco per queste modalità incredibili. Che ci sono. Mamma mia, ragazzi. L'altra volta l'esoscheletro. Adesso, appunto, l'Overcar. Ma scherziamo, raga. Sto gioco lo adoro. L'istruttore di guida sta impazzendo, ragazzi. Di paura. Oh, cerchiamo di non prendere le auto perché non vorrei che la mia auto si distrugge. Non so che cosa succede. Raga, non voglio rischiare. Dai, dai, Goku. Spingi su quel cavolo di acceleratore. Ok, vai. Dai, ragazzi. Ce la dobbiamo fare nel tempo limite, ovviamente. Ce la metteremo tutta. Non vi preoccupate. Forza, forza. Poi cercheremo di fare tempi migliori in futuro, raga. Per ora pensiamo a completare il tutto. Oh, benissimo. Raga, siamo davvero degli spericolati. Mamma mia, ragazzi. Siamo davvero incredibili. Andiamo anche contro umano. Andiamo contro le altre auto. Oh, mio Dio. È proprio da Goku sta cosa, ragazzi. È proprio da Goku. Ok. Dai, dai, forza. Le freccette ci indicano dove dobbiamo andare. Ma il tutto, ragazzi, mi sembra fin troppo semplice, sinceramente. Vai, forza, forza. Ora va un po' lente, ragazzi. Perché non abbiamo gli anelli del boost, diciamo. Gli anelli della propulsione. Vai, forza. Sì, questo voglio, ragazzi. Questa potenza, incredibile. Vai, Goku. Vai, vai, forza. Cerchiamo di non far diminuire la velocità all'auto. Ecco, in questa maniera. Dai, altro anello. Bene, raga, bene. Perfetto. Perfetto. Bravo, Goku. Bravo, così ti voglio. Non stai sbagliando nulla. Dai, 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 ragazzi. Ci siamo, ci siamo. Benissimo, ci siamo. L'ultimo checkpoint. Traguardo. Non male, vero? No, assolutamente, ragazzi. Siamo andati benissimo. Oh, ecco l'auto. Si parcheggia. Istruttore di guida dice, ah... Ah, ah, a quanto pare ho vinto io, Junior. Ok, ecco Junior, ragazzi, che arriva con l'auto rossa, con il numero due, con, appunto, Cynthia. Chi sono questi mostri? Eh, sono Goku e Junior. Uno è un Saiyan e l'altro è, appunto, un Ameciano. E non possono essere messi alla guida di un'auto, ecco. Ah, voglio la rivincita. Oddio, ragazzi, mi sa che accade di nuovo. Vediamo. Fermi. Ho detto fermi. La patente non è un trofeo di cui vantarsi. Giusto, ragazzi. Mamma mia. Mi sa che l'istruttore di guida e, appunto, Cynthia non hanno mai conosciuto dei tipi così, dei mostri così. Perché sono abbastanza spaventati, devo dire. Serve a garantire che sappiate guidare in un modo sicuro e responsabile. Sì, come no, ragazzi, come no. Non mi interessa, dice Junior. Non accetterò comunque di essere sconfitto da lui. Nonostante non è una competizione vera e propria, se la sta prendendo di brutto, ragazzi, Junior. Mamma mia. Inizio a capire come funziona questa cosa della guida. Dai, Junior, riproviamo. Raga, ci potrebbe essere adesso un'altra gara, una vera e propria gara adesso contro Junior. Chissà, vediamo. Oddio, ragazzi, l'istruttore di guida dice che si sta spaventando di brutto, minimo. Con piacere, dice Junior. Quindi, raga, mi sa che inizia la gara. Ecco, ecco, ragazzi, guardate che roba. Oh, mio Dio. Bellissimo, ragazzi. Ma che cavolo aumentano l'aura all'interno? Raga, stanno per distruggere tutto. Stanno aumentando l'aura all'interno. E mi ricordo che questa cosa la facevano anche nell'anime. Pazzesco. Pazzesco, raga. Bellissimo a sta cosa. Cynthia dice... Cosa? Fatti sotto, Goku. Ma non dovete aumentare l'aura. Non state combattendo corpo a corpo. Che cavolo significa? Junior, preparate alla sconfitta. Oddio, ragazzi. Ma che roba incredibile. Bellissimo. E... Ah, e gridano, ragazzi. Oddio. Tutti e due. E partono. E partono, ragazzi. Oddio. Oddio. Vediamo. Dobbiamo fare veramente la gara oppure... Appunto è solamente un filmato. Non lo so, ragazzi, eh. Non lo so. Oh, ragazzi. Mi sa che il tutto è finito, già. Peccato, ragazzi. Pensavo ci fosse un'altra gara. Purtroppo no. Allora, Goku intanto è tornato a casa con Junior, credo. E dice... Kiki, siamo tornati. Attenzione, raga. Vediamo che cosa succede. Ah, ok. Kiki dice... Goku, com'è andata? Eh, eh. Alla grande. Ho battuto Junior senza problemi. Ok. Bravo, Goku, che l'hai battuto. Ma la patente l'hai presa o no? Vediamo. Hai battuto Junior? Non so cosa tu voglia dire, ma fa lo stesso. Hai preso la patente? Vediamo, ragazzi. Vediamo. Perché non sono sicuro che l'abbia presa. A proposito di questo, credo che l'istruttrice sia rimasta molto colpita dal nostro stile di guida. Ok, quindi significa che è andata male e non hanno preso la patente. Ha detto che ci avrebbe dato la patente se non ci fossimo fatti vedere mai più lì. Ok, quindi, se appunto loro non vanno più lì, vuol dire che hanno già la patente in questo momento. Vediamo. Quindi, in realtà, non hai superato l'esame, dice Gohan. E sì, ragazzi, infatti, Gohan ha ragione. Hanno fatto solamente un casino dalla Madonna. Hanno fatto spaventare l'istruttore e anche Cynthia e basta. Quindi, hanno dato la patente, non perché appunto sono stati bravi e hanno appunto rispettato le regole e tutto, e hanno imparato a guidare, ma solo perché appunto non li vogliono vedere mai più lì. Quindi proprio cacciati anche dalla scuola guida, non li vogliono lì. Oh mio Dio. Beh, almeno ora è la patente. Ok, quindi, l'abbiamo sistemata sta cosa. Perfetto. Già. Ora potremo comprare un'auto e fare una gita in famiglia, come ho sempre sognato. Ok, ragazzi, quindi questo è uno dei sogni di Kiki e lo vuole, diciamo, portare a termine questo sogno. Ecco, quindi vediamo un po'. Attenzione, Goku dice, ah, ci hanno anche detto che dovremo pagare per i danni che abbiamo causato durante l'esame. E lo credo, ragazzi, hanno sfasciato sicuramente tutto, hanno sfasciato le macchine per fare quella gara stupida. È normale che, appunto, li faranno pagare i danni a loro due. Oh mio Dio, che roba, ragazzi. È tutto così dettagliato in questo gioco, proprio come nell'anime. Mamma mia, bellissimo. Cosa? Minimo si incazza, ragazzi, adesso. Minimo si incazza, Kiki. Oddio, ragazzi, Goku dice, io non ci so fare con i soldi, quindi lascerò la faccenda a te. Grazie, Kiki. Ha scaricato tutto il problema, Kiki, una roba incredibile. Adesso si incazza di brutto, diventa una bestia, Kiki, raga. Tu, tu. Ora che la cosa è risolta, possiamo tornare ad allenarci. Ma non avete risolto niente, avete fatto solo casino. È vero che è stata un'idea di Kiki farli andare lì a prendere la patente. Non ci doveva nemmeno sperare, Kiki. Però alla fine, ragazzi, non so come, per tutto sto casino che hanno fatto, hanno ricevuto comunque la patente. Quindi, obiettivo completato. Tu. E Kiki cade per terra, ragazzi. Avete visto che cavolo di roba incredibile? Mamma mia. Gohan dice, mamma, tra l'altro non si vede più nulla. Proprio Kiki è caduta per terra e svenuta, minimo. Ehi, Kiki, stai bene? Dice Goku. Goku ha pure il coraggio di chiederlo. Mamma mia, ragazzi, dopo tutto quello che ha causato. Vediamo, ragazzi, che altro succede? Attenzione. Oh, sei ripresa Kiki? Kiki dice, non è stato semplice, ma finalmente hai la tua patente, Goku. Ora serve solo un'auto. Giusto, ragazzi? L'unica cosa che serve dopo la patente è un'auto. Quindi, appunto, sicuramente magari o la andremo a costruire o la andremo ad acquistare un'auto e poi la potremo utilizzare. Perché se l'abbiamo utilizzata qui, alla scuola guida, sicuro la possiamo utilizzare in giro, magari per fare delle gare. Quindi, avanti. Abbiamo i soldi per una spesa del genere? Vediamo. Giustamente Goku fa questa domanda intelligente. Oh, cavolo, ragazzi, si incazza all'improvviso. Non dopo aver ripagato tutti i danni che hai fatto mentre imparavi a guidare. Quindi non ci sono soldi a sufficienza per, appunto, acquistare una nuova auto. Mamma mia, ragazzi. Goku l'ha fatta grossa stavolta. Oddio, Kiki dice, quindi dovrai andare a lavorare per comprare un'auto. Oh, mio Dio, ragazzi, Goku deve andare a lavorare. Altro che combattere, altro che allenarsi per l'arrivo degli androidi. Qua Kiki lo manda a zappare la vigna, veramente, a zappare la terra. Come, ad esempio, in Dragon Ball Super, raga. Oh, mio Dio, che roba. Vediamo. Ho capito. Ah, 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 va bene. Non sa come uscirsene da questa situazione, Goku. Goku dice, ehi, Bulma è una maga della meccanica. Potrei chiedere a lei, no? Giusto, ragazzi. Alla fine Bulma ha tutte le tecnologie a disposizione, sa costruire quasi tutto. Quindi immagino che Goku andrà a chiedere, diciamo, a Bulma di costruire un'auto. Magari con dei materiali, con qualcosa. Quindi il tutto sarà davvero interessante. Avanti. Ottima idea. Bulma ha sempre una soluzione per tutto. Questo è vero, raga. In molte situazioni, Bulma è davvero necessaria. Allora vado a parlarle. Ok, e usa il teletrasporto. Attenzione, raga. Tra qualche secondo. Baci subito, dice Kiki. Ecco qua, ragazzi. Quindi si teletrasporta direttamente alla capsule corpo, immagino, da Bulma. E vediamo che cosa succede. Mamma mia, ragazzi. Goku si precipita alla capsule corporation. Ok. Oh, eccolo qua, ragazzi. È già arrivato con il teletrasporto. Quanto è utile quell'abilità, ragazzi. Quanto è utile. Tantissimo. Infatti, Goku si può spostare da una parte all'altra velocemente e si perde appunto meno tempo. Bulma dice, ciao Goku, che ci fai qui? Dai Goku, spiega il tutto a Bulma. Ecco, ho un piccolo problema e mi servirebbe il tuo aiuto. Ok, benissimo. Ma certo, di che si tratta? Tra l'altro vediamo ancora Bulma con questa capigliatura. Chissà per quanto tempo la vedremo ancora con questa capigliatura. Chi lo sa, ragazzi. Kiki voleva che prendessi la patente e l'ho accontentata, ma ora vuole un'auto. Ok, giustissimo. Vediamo se ce la procura Bulma una. Non ne avresti una da darmi? Vediamo, ragazzi, che cosa dice Bulma. Wow, tu che prendi la patente, non c'è problema, posso farti avere un'auto. Oh, fantastico, ragazzi. Grazie mille, Bulma, grazie mille. Sul serio? Tutto contento, ragazzi, Goku, ovviamente. Non mi fido molto di vederti al volante. Una macchina normale non resisterebbe nelle tue mani. Giustamente, ragazzi, la sfascerebbe in due secondi. Mi servirà qualcosa per renderla più resistente. Giusto, ragazzi, ha ragione. Allora, che cosa ti serve? Ecco, ragazzi, che adesso minimo ci fa la lista della spesa dei materiali che dobbiamo andare a prendere. Minimo. Trovi tutto su quella lista. Tienila sott'occhio mentre cerchi i pezzi. Ok, ragazzi, quindi appunto adesso ci farà vedere la lista, immagino. Per quanto riguarda migliorie e manutenzione, lascia fare a me. Perfetto, ragazzi, davvero mitico. Ottimo, grazie Bulma. Figurati, saluti a Michiki. Ok, che sta sempre incazzata, tra l'altro. Ok, ragazzi, ricerca e sviluppo sbloccato. Vediamo che cos'è, attenzione. Allora, ricerca e sviluppo. Sviluppo. Consegna i materiali a Bulma e lei si occuperà di creare e potenziare veicoli per te. Puoi scegliere fra le seguenti opzioni. Ricerca e sviluppo. Costruisci vari macchinari e crea chip per potenziarli. Ok, ragazzi, fin qua ci siamo. Personalizza. Potenzia i macchinari con i chip creati. Ok. Aumento di livello incrementa le statistiche dei macchinari. Quindi abbiamo tre opzioni riguardanti questi veicoli, questi macchinari, insomma. I veicoli permettono di spostarsi e di equipaggiare il radar per minerali che ti mostra dove trovare i vari minerali. E fin qui ci siamo, ragazzi. Facilissimo e fantastico. Avvicinati a un minerale per raccoglierlo. Migliorando il radar, aumenterai il suo raggio d'azione. Perfetto, ragazzi. Fantastico. Tra l'altro, qui nell'immagine a sinistra, vedo che c'è appunto l'esoscheletro celeste e anche l'auto, l'overcar, insomma. Avanti. Ok, Goku usa il teletrasporto nuovamente. Allora, il tutto ci viene spiegato di nuovo con queste schermate. Goku torna a casa per dare la buona notizia a Kiki. Ok. Attenzione, Goku arriva con il teletrasporto. Kiki, sono a casa. Goku, allora, abbiamo un'auto? Giustamente, Kiki subito va al dunque. Devo solo recuperare dei materiali e Bulma ce ne costruirà una. Perfetto, ragazzi. Davvero? Magnifico! Allora farai meglio a metterti subito all'opera. Esatto. Scommetto che si rivelerà anche un ottimo allenamento. Probabile, ragazzi. Che ne sappiamo? Vedremo. Non ne sono molto sicuro, ma tanto vale provare. Beh, giusto. Ok, ragazzi. Attenzione, attenzione. Uh, ricompensa e storia. 79.713 punti esperienza. 5 vite robusta piccola. 5 ingranaggio piccolo. 5 dado d'acciaio piccolo. E 10 ferro. Quindi tutti questi materiali abbiamo avuto. Perfetto. Oh, ragazzi. Attenzione. Vediamo un po'. Abbiamo Goku e Junior. Vediamo che cosa succede. Goku dice, bene bene, cosa faccio oggi? E a chi lo sa, vediamo. Papà, la mamma ti sta cercando, dice Gohan. Goku dice, davvero? Ok. Scusa, Junior, potresti allenarti con Gohan finché non risolvo questa questione? Sicuramente, ragazzi, lo farà Junior. Junior si allena volentieri con Gohan. Va bene. E Goku se ne va a casa sua. Ecco qua, ragazzi, al cospetto di Kiki. Kiki dice, Goku ha chiamato il maestro Muten. Dice che Lance è tornata alla Kame House. Ok, ragazzi, perfetto. Da parecchio che non sentivamo parlare di Lance, di Laura, in italiano. Davvero? Ne è passato di tempo. Come sta? Infatti, da tantissimo tempo, ragazzi, che non la vediamo. L'ultima volta l'abbiamo vista alla Kame House e l'abbiamo incontrata con Gohan. Vi ricordate? Non lo so, ma a quanto pare vuole parlare con te. Che altro vorrà adesso? Oddio, ragazzi. Ma io devo allenarmi. Infatti. Vorresti mancare di rispetto al maestro Muten? Va da loro e senti cosa vogliono. Sì, hai ragione. Farò meglio a partire subito. Ok, ragazzi, vediamo. Fa' attenzione. Attenzione, ragazzi. Vediamo che cosa succede. Siamo ritornati con Goku. La guerra si avvicina. Vai verso la Kame House dalla mappa del mondo. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo tranquillamente fermare qua. All'interno della casa di Goku. Oggi, appunto, la missione l'abbiamo completata, credo. Facciamo un attimino. Tasto opzioni. Andiamo a Storia e controlliamo. Sì, ragazzi, abbiamo la missione principale che ha cambiato nome. Si chiama La guerra si avvicina. E qui abbiamo questa missione secondaria per il nostro caro Shiro Bai. Che dice, Shiro Bai ti ha sfidato ad una gara di pesca. Cattura un pesce enorme e mostraglielo. Perfetto, raga. L'andremo a fare prima di andare a fare la prossima missione storia, ovviamente. Quindi, ragazzi, che dire. Oggi, appunto, siamo andati a continuare e finire. Questa missione storia. La seconda parte, ragazzi, questa qui di oggi è stata davvero mitica. Mi sono divertito davvero come non mai. Come avete visto, appunto, appena abbiamo iniziato, diciamo, questa seconda parte della missione, subito Kiki ha costretto Goku ad andare a prendere la patente. E ha messo in mezzo anche a Junior. Quindi, appunto, ha costretto tutti e due ad andare a prendere la patente di guida. Goku e Junior sono andati malvolentieri ad iscriversi a scuola guida. E una volta lì abbiamo visto, appunto, che c'erano Cynthia e anche l'istruttore di guida, proprio come in Dragon Ball Z, proprio come nell'anime. Quindi, la saga filler, diciamo, della patente di guida è stata fatta davvero benissimo. E poi, ragazzi, subito dopo, appena Goku si è messo in macchina, è partita la prova a tempo con l'overcar. Quindi, la nostra prima, appunto, prova a tempo con l'overcar, che è stata davvero magnifica. Abbiamo dovuto sfrecciare con la nostra overcar in mezzo al traffico, quindi sulla strada. Abbiamo preso i 10 checkpoint e abbiamo preso anche gli anelli per andare più veloce. Quindi, ragazzi, tutto è stato davvero mitico. E una volta finita la prova a tempo, come abbiamo visto, Goku e Junior si sono messi a fare la gara. Addirittura aumentando l'aura all'interno dell'auto stessa, anche se non serviva. Quindi, si sono messi proprio con lo spirito di competizione. E alla fine hanno fatto il devasto, perché hanno fatto dei danni incredibili alle auto della scuola guida. Quindi, una roba davvero incredibile. Poi, ragazzi, Goku e Junior si sono ritirati a casa. E hanno preso entrambi la patente solo perché hanno fatto un disastro. E quindi, sia Cynthia che l'istruttore di guida non volevano più vederli. Perché, mamma mia, ragazzi, non avevano mai visto delle persone così, dei mostri così, che appunto fanno il devasto a scuola guida. Quindi, li hanno cacciati e hanno regalato la patente sia a Junior che a Goku. Poi, appunto, Goku ha riferito tutto a Kiki. Kiki, ovviamente, si è anche arrabbiata. E in più, ragazzi, Goku ha detto che dovranno pagare i danni fatti da loro due, appunto, alle auto. Quindi, una roba davvero incredibile. Lì, Kiki poi è svenuta anche. Una roba pazzesca. Poi, ragazzi, dopo essersi ripresa, Kiki è andata subito a scuola guida a pagare tutti i danni, spendendo un botto di soldi. E quindi, non c'erano più soldi a sufficienza per comprare una nuova auto, visto che loro non ce l'avevano. Quindi, Kiki ha detto a Goku che doveva andare a lavorare, ma Goku non ha accettato, e gli è venuta l'idea di chiedere a Bulma se ne avesse una di auto. Quindi, si è teletrasportato da Bulma. Bulma ha detto che, sì, poteva dargli l'auto a Goku, ma la voleva un attimino potenziare. Ed ecco che si è sbloccata quella schermata ricerca e sviluppo, che sicuramente andremo a controllare. In futuro andremo a vedere che cosa si potrà fare, visto che si possono, appunto, potenziare e personalizzare, appunto, i veicoli lì da Bulma. Quindi, una cosa davvero interessante che non mi aspettavo. E quindi, ragazzi, appunto, Bulma ci ha dato una lista di materiali che serviranno per potenziare questa nuova auto per Goku. Ovviamente, l'andremo a completare prendendo questi materiali che serviranno, ma non adesso, non in questi episodi. Ci vorrà qualche episodio, sicuramente. E dopo che Bulma ha accettato di costruire quest'auto per Goku, Goku si è teletrasportato di nuovo da Kiki, avvisandola che Bulma, appunto, avrebbe costruito questa nuova auto. Dopodiché, la missione storia si è conclusa e abbiamo ricevuto alcune ricompense. L'esperienza, 5 viti robuste, 5 ingranaggi, 5 dadi d'acciaio e anche 10 di ferro. Quindi, un po' di materiali che sicuramente serviranno poi per Bulma, per darli magari a Bulma per costruire questa nuova auto potenziata. Me lo aspetto, ragazzi, insomma. E poi, ragazzi, abbiamo visto che Goku non è potuto andare con Junior e Gohan ad allenarsi, perché, appunto, L'Ange è andata alla Kame House e, appunto, il genio ha telefonato a casa di Kiki. Quindi, Goku dovrà andare, credo, nella prossima missione storia, praticamente, all'isola del genio per incontrare L'Ange, perché è da parecchio che non la vediamo. Quindi, ragazzi, non so, sinceramente, che cavolo succederà. Intanto, oggi il tutto è stato davvero mitico. Abbiamo visto questa mitica saga filler, che non mi aspettavo, di Goku e Junior, che vanno a prendere la patente. Sinceramente, non me l'aspettavo in questo gioco. Praticamente, dovrebbe essere l'unico gioco in cui hanno fatto vedere questa scena qui, di Goku e Junior, che vanno a prendere la patente. Poi, sicuramente, ragazzi, visto che questa modalità è molto, molto divertente, sicuramente, quando avremo l'auto costruita da Bulma, andremo a fare un sacco di prove a tempo, andandoci a divertire. Perché, ragazzi, ci sta davvero andare ad utilizzare una overcar con Goku, facendo il devasto per le strade, insomma, nel mondo di Dragon Ball. Quindi, ragazzi, una roba davvero mitica. Sono davvero divertito oggi. Il tutto mi è piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra su tutto ciò che avete visto oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate del fatto che Kiki ha costretto sia Goku che Junior ad andare a prendere la patente. Poi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, appunto, della prova a tempo con l'overcar. La prima prova a tempo con l'overcar che abbiamo mai fatto in questo gioco. Fatemi sapere se vi è piaciuta. E fatemi sapere che cosa ne pensate di tutte quelle scene divertenti che abbiamo visto. Tra Goku Junior e anche Kiki che, appunto, si incazzava ogni due secondi. Quindi, ragazzi, secondo me, questo video potrebbe essere uno dei video più divertenti mai realizzati su Dragon Ball Z Kakarot. Perché, ragazzi, mamma mia, che cavolo di roba oggi. Io mi sono divertito. Come non mai. E spero anche voi. Quindi, fatemi sapere la vostra. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. E ricordatevi sempre che io tornerò. E ricordatevi sempre che io tornerò.